Ok, non sappiamo cosa troveremo sul ponte, quindi occhi aperti. Rendere sicura le retrovie dovrebbe essere pericoloso. Ricevuto, pugnale 1. Siamo pronti a tutto. Bene, prendiamo quel tizio e torniamo a casa. Bravo 2, siamo vicini al ponte. Ci sono 5 e 25. Cercate ancora. Sì, stiamo cercando. Marlow, tieni pronta la mitragliatrice. Spara quel che si muove. La strada è piena di macerie. Forse bombe improvvisate. Dobbiamo rallentare. E' imbordante. RPG sulle rute. Via dal dannato ponte. Via, via, via! Sto spingendo al massimo. Questo appartuto posto è pieno di nemici. Non spingi di più. Qui siamo dalla mitra di piozzo. Cazzo, ci sono nemici dappertutto. Distruggilo con un R.P.C. Cazzo, sono senza colpi. Fate fuoco di soppressione. Non chiedeteci da questo casino. C'è un carro armato in arrivo. Procedo. Cazzo, un sacco di nemici attraversano in più. Presto, via, via, via! Ok, presto, desto! Rona libera, ci allontaniamo. Cazzo! Cazzo, ci abbiamo quasi lasciato la pelle. Dacci dentro, arriviamoci dalle palle. Pitbull, qui Pugnale 2-2. Siamo alla galleria. Scaricate qualche modulo J-Dun su questa galleria. Ora quel coglione non si muove più. Ricevuto, Pugnale 2-2. Aquila 6 in volo. In arrivo fra dieci. Amo aspettare i fuochi d'artificio. Il pottuto 4 luglio, ora! In movimento, ragazzi. Ok. Controllate che le armi e le munizioni siano a posto. E tenete gli occhi aperti. PMT a ore 12! A destra! Ora, ora, ora! Marta, quel coglione è dietro di noi! Dove cazzo è? Spazio aereo! Segate i kiobu, subito! Fate piovere, ma... Sì, mancatevi questa! Tutto a vostro! Ottimo lavoro! Stiamo raggiungendo l'insediamento. State pronti e concentrate. Che tipo di presenza è prevista? Servizi informativi non ci hanno detto un cavolo su questa zona. Sono troppo preoccupati per la costa per mandare a noi poveraggi. Però se ci sono guai, il supporto aereo è pronto. Dove cazzo sono tutti quanti? C'è nessuno? Merda, ci hanno visto! Un fototo Zeus sulla collina! Attenzione! Non siete dal mezzo! Sentete, cap! Tutto alla collina! Non vedo! Fateli saltare! Quintal 25, confermo! Tenetevi forte! Pronti all'attacco! Trasmettete le coordinate! Bravo 2, qui fiume! Il comando sud ha intenzione di far piovere munizioni pesanti su Kirilenko. Ho cercato di fargli cambiare idea, ma non c'è stato verso. Ha altre priorità. Ho guadagnato tutto il tempo che potevo. Andate là dentro e fermate Kirilenko. Fiume, qui bravo 2, ricevuto. Avete sentito cosa ha detto? Muoviamoci! Stiamo per finire sepolti dall'artiglieria dopo una giornata agli acquati! Almeno un per favore lo vorrei! Piantano di frignare su X! Non sono venuto qui per farmi fottere dal fuoco! Poco amico, andiamo! Muoversi, non c'è tempo da perdere! Occhio, piove fuoco! Hanno iniziato prestino? o sbaglio? Presto, presto! Hanno iniziato prestino o sbaglio? Presto, presto! Ehi, ci sono dei nemici. Poi, questi tempi sono dei nemici. Ah, che ne ho bisogno di rinforzare! Io sentite! Io sentite! Sì! Ah! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se si muove, sparagli. Sempre la stessa storia. Chiedo scusa? Dite sempre sparagli se si muove, ma non lo fate mai. Dovete prendere atto della situazione. E la situazione è che noi abbiamo tutte le armi. Sergente, è una polizza di carico della Sangre de Toro. Allora, chi vi manda? Ah, non è meglio muoverci subito anziché dopo? Le manda Iguair, non è vero? È un avversario in gamba. Catturarmi è stato un bel colpo. Sergente! Avversario. È stato bravo ad arrivare fin qui. E anche voi, devo ammetterlo. Dov'è diavolo è finito? Rasputi! Lascialo perdere e muoviti! Cazzo! Ehi, con quella bocca baci tua madre? Ti ammiro, Prez! Ehi, qualcuno mi dà una sigaretta? Devo fumare! Cazzo! Sei un dannato hippie del cazzo! Il fantasma è qui, niente paura.